Cristina Bufi-Poletica 2019. Sono passati poco più di dieci anni da quando i social network sono arrivati nella nostra società e sono diventati parte della nostra quotidianità. Dieci anni in cui è cambiato praticamente tutto. Quando parliamo di Internet oggi, ci chiediamo spesso se la rete ci stia rendendo più odiatori, più isolati, più disinformati, più polarizzati. Ogni giorno le notizie che leggiamo ci raccontano di un mondo in cui sui social si litiga, le persone non sono più capaci di parlarsi senza insultarsi. E così noi non capiamo bene che cosa sta succedendo. Ma è davvero così. Ci chiediamo spesso appunto se Internet ci stia rendendo più odiatori, però forse dovremmo cominciare a cambiare i focus delle domande per capire davvero che cosa sta succedendo con le piattaforme e se davvero le piattaforme che erano state create per unirci oggi siano responsabili di una profonda frammentazione sociale. Come facciamo a capirne i motivi? Vi voglio lanciare una provocazione. Se invece di chiederci se i social ci stanno rendendo solo più odiatori o più disinformati, cominciassimo a chiederci se ci stanno rendendo più diseguali? Cambiando questa prospettiva e parlando di disuguaglianza forse appunto troveremmo delle risposte nuove. Parlare di disuguaglianza quando parliamo di Internet vuol dire prima di tutto parlare non solo di odio online e non solo di disinformazione ma parlare di una cosa di cui sentiamo molto poco parlare, ovvero i dati. I dati che sono il nucleo della società digitale. Ecco, i dati sono responsabili in qualche modo del funzionamento della nostra società e quando parliamo di dati di disuguaglianza questo ci serve per chiederci chi possiede questi dati e soprattutto con quali obiettivi. Una delle prime cose a cui dobbiamo pensare quando parliamo di dati è quindi appunto chi li possiede e cercare di sfatare dei miti anche sui dati. A noi viene spontaneo pensare che i dati siano rappresentativi delle persone e fin da quando siamo piccoli ci insegnano che la matematica non è un'opinione quindi automaticamente ci viene da pensare che ciò che poi fa funzionare questi dati li aggrega, ovvero gli algoritmi che sono quello che dà il funzionamento a tutte le applicazioni che usiamo, a tutte le piattaforme che usiamo siano qualcosa di neutrale. Ma non è così. Non è così. La tecnologia non è neutrale e questa è una cosa che dobbiamo tenere davvero a mente perché la tecnologia è un prodotto umano. dietro ad ogni algoritmo dietro ad ogni applicazione dietro ad ogni piattaforma c'è un essere umano con una propria visione del mondo con delle proprie idee con dei propri obiettivi. Ed è proprio questo il primo passo per cominciare ad adottare un pensiero critico verso tutte le piattaforme che utilizziamo. Alzi la mano chi non ha mai sentito la frase se il servizio è gratis il prodotto sei tu. È infatti piuttosto risaputo che le piattaforme della Silicon Valley sono dei grossi monopoli privati che possiedono i nostri dati e possiedono gli strumenti per analizzarli. e fanno questo a fine di lucro per creare delle pubblicità sempre più personalizzate. Ormai le piattaforme sono parte dell'infrastruttura sociale. Noi le usiamo per qualsiasi cosa da prenotare una macchina o un ristorante a tenere sotto controllo la nostra salute a trovare un partner. Però facciamo ancora fatica a capire come questi algoritmi funzionano. E soprattutto poi questi dati dove vadano con chi vengano condivisi. Quando parlo di queste cose e lo faccio spesso infatti ormai i miei amici mi odiano e una delle cose che mi viene chiesta è ma perché me ne dovrei occupare? Cioè alla fine a me le pubblicità personalizzate non danno fastidio. Cioè io so cosa comprare o comunque della mia privacy mi importa relativamente perché non ho niente da nascondere. Quando parliamo di privacy prima di tutto dobbiamo pensare alla privacy come un diritto umano. E quindi la privacy non ha mai avuto a che vedere con l'idea di non avere niente da nascondere ma piuttosto con la nostra libertà di ricavarci uno spazio autonomo e libero da interferenze esterne tanto private quanto pubbliche. Ma soprattutto io credo che quando parliamo di privacy oggi nel 2019 dobbiamo pensare alla privacy come un diritto collettivo non solo individuale. Vi faccio un esempio. Siccome gli algoritmi quello che fanno non è aggregare tanto i dati di individui ma piuttosto i dati di gruppi quello che succede è che poi gli algoritmi molto spesso sono in grado anche di conoscere le nostre debolezze e utilizzarle a scopo di lucro per l'appunto. Gli algoritmi oggi vengono utilizzati già per prendere delle decisioni anche sociali. Ad esempio negli Stati Uniti e in Australia già si utilizzano gli algoritmi per decidere se una persona merita un lavoro o se una persona è più o meno potenziale criminale se merita un mutuo. Ecco questi sono degli esempi che ci insegnano che come abbiamo detto gli algoritmi non sono neutrali perché se l'algoritmo non è neutrale quello che farà è utilizzare o comunque vedere i pregiudizi che ci sono dentro alla società e riprodurli ed espanderli. Quindi sono diventati molto famosi casi in cui per esempio come quello che vedete alle mie spalle un algoritmo negli Stati Uniti decideva se una persona fosse più o meno potenziale criminale e risultava discriminante verso i neri. Oppure l'algoritmo di Amazon che a un certo punto tramite intelligenza artificiale decideva se una persona fosse più o meno valida per fare parte dell'azienda e risultava discriminante verso le donne. Perché? Perché se la nostra società ci dice che i neri sono più probabili criminali dei bianchi l'algoritmo dirà la stessa cosa e se la società ci dice che le donne sono meno valide degli uomini per fare lavori di leadership l'algoritmo dirà la stessa cosa. Ecco perché è un problema collettivo perché l'algoritmo riproduce la cultura dominante. Ma vi voglio fare un altro esempio. Ci sono casi come Cambridge Analytica o il caso Snowden che ci hanno insegnato che più spesso di quello che pensiamo le piattaforme utilizzano i nostri dati e le condividono non solo con altre aziende ma anche con gli stati, con i governi che li utilizzano per conoscere i nostri movimenti le nostre conversazioni, per spiarci. questo ovviamente è molto problematico e vi faccio un esempio. Io sono un attivista per gli attivisti che sono coloro che per definizione mettono in discussione il potere e cercano cambiamento sociale la sorveglianza significa controllo. Questo è già successo in Francia non tanto distante da noi quando nel 2015 in seguito alla dichiarazione dello stato d'emergenza dopo gli attentati terroristici il governo francese comincia a seguire e spiare gli attivisti ecologisti per evitare che manifestassero. in questo senso il diritto alla privacy è quello che si lega ad altri diritti come il diritto a manifestare il diritto di organizzazione la libertà di espressione. Sono tutti diritti che hanno a che vedere con noi non stiamo parlando solo dei miei dati stiamo parlando dei nostri dati. Quindi quando parliamo di società digitale io credo che sia molto importante che ricominciamo a vederci come parte di una comunità. e cominciamo a pensare ai nostri dati come un bene comune. Oltre a questo dobbiamo cominciare ad adottare uno sguardo critico in cui cominciamo a chiedere noi di decidere che cosa è privato e che cosa è pubblico. Cominciamo a mettere in discussione questo nostro ruolo di cittadini consumatori in cui non c'è dato scegliere e sono dei privati a scegliere i termini e le condizioni della nostra partecipazione sociale e della nostra visibilità online e dei contenuti che consumiamo che contribuiscono a creare la nostra visione del mondo. Dobbiamo veramente riaprire un dibattito completamente nuovo e dobbiamo cominciare a fissare dei limiti etici. In questo senso dobbiamo imparare dal passato perché se pensiamo per esempio al petrolio il petrolio è stata una risorsa che ci ha permesso di svilupparci come società in una maniera incredibile. Però forse sarebbe stato meglio renderci conto prima che dovevamo regolamentare le aziende prima di svegliarci nel mezzo del cambiamento climatico. Ecco, non possiamo lasciare che con internet succeda questa cosa. dobbiamo fissare dei limiti. Dopo avervi terrorizzati vorrei però provare a lasciarvi anche un po' di speranza raccontandovi anche la mia esperienza come attivista. Io appunto di questi temi mi sono sempre interessata ho cominciato studiandoli e poi a un certo punto ho cercato di capire come li potevo portare fuori dall'università. e ho capito, la prima cosa che ho capito è stata che per capire come risolvere i problemi su internet dobbiamo sempre parlare dell'intersezione tra società, tecnologia, politica, economia. Non possiamo fidarci di coloro che ci offrono soluzioni solo tecniche o solo giuridiche. Circa un anno fa sono diventata il volto di questa campagna che si chiama Intimità Violata. Ancora oggi sono emozionata a dirlo perché nel giro di pochissimi mesi da una petizione su change.org siamo passati ad avere una legge. E come è stato fatto questo? È stata creata prima di tutto una rete ampissima di esperti che è una cosa che oggi facciamo sempre meno, no? Consultare gli esperti. Beh, per Intimità Violata e per il Revenge Porn la condivisione non consensuale di materiale intimo abbiamo avuto bisogno di consultare non solo giuristi, non solo politici ma anche informatici, psicologi, sociologi. Insomma, abbiamo veramente creato una rete dal basso per fare in modo di approcciarci a questi problemi nel modo giusto. e questo è stato molto importante perché nel nostro percorso c'è stato chi proponeva delle soluzioni alternative alle nostre come per esempio appunto solo la legge ad esempio c'era chi proponeva di vietare il sexting ovvero lo scambio di video e foto intime tra partner andando di fatto a censurare la libertà di espressione dei cittadini oppure c'è chi proponeva solo soluzioni tecniche dicendo beh, implementiamo il finger printing l'impronta digitale, creiamo dei grossi archivi online in cui tutte le foto che sono sulle piattaforme sono schedate insieme e in questo modo rimuoveremo il materiale più rapidamente andando a creare di fatto problemi per la sorveglianza dei cittadini. Ecco, questo è un esempio per dire che quando parliamo di internet e di problemi dobbiamo veramente adottare uno sguardo sociale e culturale cioè renderci conto che come il revenge porn per esempio non nasce da internet ma nasce da una violenza che è già presente nella società, quella contro le donne. Allo stesso modo l'odio online non lo risolveremo solo parlando di far iscrivere i cittadini sulle piattaforme con un documento o il problema dei monopoli su internet non lo risolveremo utilizzando tecnologie nuove come la blockchain perché non esiste la causa e l'effetto dell'utilizzo di una tecnologia dobbiamo pensare in una maniera completamente nuova. Per fare questo ci sono due cose che possiamo fare la prima è educarci, dobbiamo conoscere i nostri diritti per poterli difendere dobbiamo parlare del problema dell'accentramento di poteri su internet con i monopoli dobbiamo parlare di come funzionano le piattaforme dobbiamo cominciare a chiedere noi che cosa vogliamo e dobbiamo parlare di cosa è privato e di cosa è pubblico. L'altra cosa è unirsi, fare attivismo. A me piace molto in questo caso citare Greta Thunberg che dice Activism works, l'attivismo funziona ed è davvero così. forse noi ancora dentro al nostro sguardo un po' individualista che ci siamo abituati ad adottare ci siamo dimenticati della potenza di tante persone che si mettono insieme per portare avanti qualcosa. Però la verità è che se vogliamo cambiamento sociale dobbiamo ricominciare a guardarci perché qui quando parliamo di diritti digitali parliamo del futuro della nostra democrazia parliamo del fatto che dobbiamo chiederci come fare a risolvere l'immensa forbice sociale che le piattaforme stanno creando e come risolvere veramente l'odio online. Questo appunto sarà un processo molto lungo però credo che sarà l'unica cosa che possiamo davvero fare. Anche perché dobbiamo veramente parlare di quello che internet può fare, non solo dei problemi che causa, nel senso che internet non solo nel mio caso ma nel mondo è stato responsabile dell'espansione dei movimenti sociali da Me Too a Friday for Future è diventato uno strumento per fare in modo che le persone si potessero unire sulla rete e allo stesso tempo può creare anche degli spazi sicuri per le persone, per parlarsi, per le comunità discriminate. Quindi crediamoci nel fatto che internet ci possa aiutare però prima chiediamoci dove stiamo andando. Siamo in un momento cruciale della storia e dobbiamo veramente, veramente cominciare a lavorare insieme. Una delle cose che ho imparato quest'anno è che le persone ti diranno sempre che non cambia mai niente, che non possiamo fare niente, che le cose sono così. Però quello che io oggi spero di potervi lasciare è che non è vero. Non è vero perché io ho cominciato da zero e oggi sono qui ed è stato solo perché ci ho creduto. Quindi crediamoci nei nostri diritti, crediamo nelle nostre libertà e crediamo nel cambiamento. Grazie. 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 Grazie.